Mi aspetto una gran bella partita da parte di entrambe le squadre perché anche il Pordenone non è una squadra che specula sul risultato che si mette dietro ad aspettare ma che prova a giocare, ha dei giocatori di qualità e di gamba davanti, quindi caratteristiche che possono mettere in difficoltà chiunque sia quando ti difendi basso che quando concedi profondità. Quindi sono delle situazioni perché oltre alle qualità del Bassano possa venire fuori una bella partita. Noi invece recuperiamo Martinelli fuori semenzato. Sì, Martinelli verrà nuovamente riaggregato al gruppo, tutta la settimana che si allena con la squadra le risposte sono positive. Per Daniel invece aspettiamo di conoscere l'esito della risonanza magnetica che verrà fatta lunedì per capire di che entità è l'infortunio. Ci auguriamo tutti che sia di poco conto e che ce lo tenga lontano dal campo per il meno tempo possibile.